Una festa che quest'anno lascia un diverso sapore in bocca. Il primo maggio diventa come non mai momento di riflessione, come ci ha detto l'assessore regionale al lavoro. Noi dobbiamo dire che è un momento di riflessione ma che non può esserci una festa se non c'è il lavoro. E che noi abbiamo la necessità di oggi guardare, perché Covid è stato un acceleratore anche di conflitto sociale rispetto ai temi del lavoro, legati a significative perdite e soprattutto una perdita di fiducia. Anche nel nostro territorio, anche a Bassano, sono molte le persone che si sono trovate a cercare lavoro. Ma non è soltanto questo, c'è un fenomeno ancora più grave che spinge a mille interrogativi. Sono molte le persone che dovrebbero essere iscritte nelle liste dei centri per l'impiego ma non ci sono perché sono prive di fiducia e quindi sono gli inattivi. E poi c'è un settore che mi preoccupa particolarmente ed è quello del bar, della ristorazione, tutto ciò che era legato a un turismo. La nostra città e il nostro territorio, pensiamo a tutto ciò che riguarda Asolo, Marostica, Bassano, noi siamo centrali rispetto a questo. Questo segmento è il segmento che sta perdendo di più. E lì sono anche scomparse le imprese e su questo dobbiamo interrogarci.